e stasera doppia prova abbiamo un bellissimo ufc mk18 full custom totalmente rivisto e c'era stato fatto un custom ma abbiamo fatto un custom e dall'altra parte altro mp7 della stessa persona a proposito ringrazio valerio dei cowboys from hell di latina grazie valerio beh direi di partire prima con questo bellissimo mk18 appoggiamo l mp7 caricatore pts da 150 bb e come sempre vediamo come tira e sentiamo come suona accendiamo la nostra torcina beh direi pura musica appoggiamo questo e prendiamo l'ennesimo mp7 numero 114 e anche questa stessa cosa ragazzi dal lab atj è tutto saluto valerio dei cowboys from hell di latina e noi ci vediamo al prossimo custom ciao 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 ciao